Nicolò, rientro in basca dopo l'infortunio, come stai, come sono le sensazioni? Bene, bene, sto benissimo. Sto bene emotivamente, diciamo che dopo la convocazione sono felice, quindi è tutta un'onda che sto cavalcando. Ovviamente qui non sono al top, è importante essere al top tra qualche settimana, però sono contento, mi sto godendo di nuovo questi ambienti che mi mancavano. E niente, alla fine la cosa più importante è che dove sia questa. Quali sono i tuoi obiettivi per i mondiali in basca corta? Diciamo che arrivo a un mondiale in basca corta senza aspettative, guardando posizioni o comunque sia di questo genere. Sicuramente migliorare il tempo è l'obiettivo, è il primo obiettivo. Poi tutto ciò che ne deriva sono conseguenze, per il resto vado là, mi godo la mia esperienza, la do al massimo e spero di portare a casa il mio risultato possibile. Grazie.